Tu che sei milanista dalla prima ora, che cosa è cambiato? Guarda che sono venuta a festeggiare, non ho promesso spogliare Ellic, però sono venuta lo stesso, va bene? No, 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 poi non vogliamo spogliare assolutamente le donne, ma che cosa è cambiato nel Milan da quando venivi in questo programma e c'era una girandola continua di allenatori e la squadra non faceva punti? Diciamo che io ho goduto col Milan dell'ultimo scudetto, no? E degli anni passati, perché ancora... Il verbo è un po' forte, il verbo è un po' forte. Vabbè, siamo già in fascia protetta, siamo già più avanti, quindi si può usare come termine. Comunque, insomma, diciamo che il Milan lo vivo da tanti anni. Poi, in quegli anni l'ha purtroppo sofferto, ho bevuto tante camomille. Sì, ma io vorrei sapere la differenza tra prima e dopo in una battuta. Tra prima e dopo? Sì! Ah, vabbè!